Grazie al bel pariggio di Napoli la Roma ha continuato la serie positiva in Serie A e guarda con sempre maggiore ottimismo al finale di stagione diviso tra rincorsa al quarto posto e Conference League. Nel frattempo però continuano le voci di calcio mercato in vista della prossima stagione in cui Mourinho vorrà migliorare ancora i risultati e per farlo avrà bisogno di altri rinforzi. Tra i nomi fatti nei giorni scorsi c'è quello di Lingard. La chiamata di Mourinho che l'ho avuto ai tempi del Manchester United in cui ha reso sotto la guida dello Special One meglio che con altri allenatori è stata però ignorata dai bookmaker. Secondo le quote degli allibratori inglesi infatti la Roma è fuori dai giochi nella corsa al suo ingaggio a parametro zero. West Ham e Siviglia sono in pole position. Anche per Abraham però lo scorso anno le quote inglesi vedevano la Roma nelle retrovie. Pinto riuscirà a sorprendere anche stavolta.